ciao ragazze sono tornata vi sono mancata un pochino, voi mi siete mancate tantissimo allora manco da tantissimo tantissimo tempo ci sono tantissime novità, tantissime cose che vi devo raccontare però poi quello magari lo faccio in un video un po' più specifico dove vi racconto un po' quello che è cambiato perché sono mancata tutto questo tempo in realtà io questo video non lo dovevo registrare io mi sono ritagliata due minuti di tempo perché ho accompagnato la mia piccolina scuola e avevo delle cose da preparare per le mie clienti vi faccio vedere i prodottini che devo consegnare ce l'ho qui mi stava dando un'occhiata al nuovo cataloghino perché è uscito nuovo perché voi sapete che io ero consigliera di bellezza Eivoroshi ma adesso sono capogruppo per cui insomma questa è una delle novità insomma di cui poi vi parlerò e appunto comunque se qualcuno ne vuole sapere di più o interessato a lavorare con Ivoroshi o nemmeno sapere in privato non ci stanno problemi a disposizione e insomma stavo con il mio tablet a vedere insomma gli ordini che mi hanno fatto perché appunto devo consegnare i prodottini e ho detto perché non fare un attimo un video per dire ragazze sono tornata lo so che manco da tantissimo avevo un progetto in mente che mi ha portato via tanto tempo insomma poi magari appunto ve ne parlo però ci tenevo a fare questo piccolissimo video per salutarvi e per dirvi che appunto sono tornata nei prossimi video riprenderò appunto la rubrica nello sfogliamo insieme il catalogo la rubrica vlog che a conto pare non è che è andata proprio benissimo nel senso che la mia vita non è che è andata proprio benissimo e poi insomma tutti una serie di video ne ho tantissimi prodotti da recensire un po' vecchietti alcuni un po' più nuovi però li recensirò lo stesso perché li ho testati bene e comunque fanno sempre comodo secondo me delle recensioni insomma sui prodotti cosmetici vi parlerò di insomma di tutto quello che sta cambiando di tutte le novità che ci sono del fatto che comunque programmerò dei video a settimana quindi il canale insomma diciamo che rinascerà di nuovo e sarà tutto un po' più organizzato un po' più specifico un po' come tra l'altro ho fatto con la mia vita perché insomma ho fatto delle scelte lavorative personali e questa volta però sono quelle effettive per cui insomma ve ne parlerò con calma niente ragazzi ci tenevo a farvi questo video piccolino per dirvi appunto che se vi va di seguirmi ancora sono tornata ringrazio tutte quelle che si sono iscritte al canale anche se non registro video veramente ormai da tantissimo forse un annetto o qualcosa in meno e ringrazio anche chi non ha tolto cioè non si è dis iscritto dal canale se tu è la prima volta che stai vedendo un video mio iscriviti insomma niente ragazzi ci aspettano tante cose insieme vi spiegherò tante novità su questa mia aziendina su questa mia nuova esperienza nuova tra virgolette ma comunque l'esperienza di capogruppo per me è nuova e tutto 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 insomma che è cambiato nella mia vita e che sta cambiando insomma la mia vita da mamma da donna che lavora comunque e quindi ho trovato questo equilibrio perfetto tra impegni, famiglia, casa, bimba ma riesco lo stesso appunto a lavorare a fare tutte le cose che devo fare in serenità, divertendomi mi sono veramente felicissima per cui questo era il momento giusto per riprendere i video per riprendere in mano il canale e quindi insomma farvi sapere che sono tornata sono felicissima e vi aspetto in tante un bacio ragazze ciao 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 ciao